Bioeconomia protagonista al Palazzo della Borsa di Genova domani e venerdì per la quarta edizione del Forum Italiano che affronta anche il tema delle biotecnologie industriali. Un evento internazionale in cui esperti e centri di ricerca provenienti da oltre dieci paesi dell'area euro-mediterranea affronteranno diversi argomenti di un settore su cui l'Unione Europea punta molto per conciliare crescita economica e sviluppo sostenibile. Ma economica e anche sociale perché come si vede il clima mondiale sta peggiorando in tutti i sensi anche quello fisico e quindi il fatto di parlare di biotecnologie è il futuro. Dobbiamo capire che bisogna cambiare radicalmente il modo di pensare, creare impiego, creare energia in modo diverso. Ci sono 22 milioni di europei che lavorano in questo mondo. Il fatto che poi si sia voluto farlo a Genova e la Camera di Commercio ha veramente contributo con aiuto ma anche con un grande lavoro dei nostri collaboratori e oggi è un modo di dire che Genova è una smart city che pensa al futuro e siamo riusciti a portare qui 180 delegati da tutto il mondo. Oggi c'era un'altra interessante manifestazione sulla mediazione mondiale. C'è una voglia di reagire con temi legati al presente e anche al futuro. Quindi è un modo come un altro anche di portare all'attenzione della nostra città che non a caso è sede dell'Istituto Italiano di Tecnologia dei temi, delle tematiche che possono portare economia, lavoro e sviluppo. Dopo il calo del 2013 Genova torna alla ribalta del turismo congressuale. Il turismo congressuale indubbiamente non è facilissimo nella contesa internazionale ottenerlo. Questa è la prova del contrario. Direi che comunque Genova dal punto di vista turistico sta facendo numeri importanti di crescita molto significativa. Prendiamo le crociere e tutto il mondo del turismo anche fai da te che è interessante. Non ci sono molti soldi per la promozione, come sapete, però l'incremento proprio della città di Genova nel panel internazionale è stato formidabile. L'avete visto negli ultimi weekend. La città pienissima come non si era mai vista. La bioeconomia è un settore vastissimo. È un settore che già oggi in Europa dà lavoro a 22 milioni di persone, che sono il 9% degli addetti europei. È un settore che di qui a una quindicina d'anni varrà circa il 3% del PIL dell'Unione Europea ed è un'area su cui hanno già commesso Stati Uniti e i paesi emergenti dell'Asia. Che cosa significa? Significa tutto ciò che è a valore economico che è possibile fare utilizzando esseri viventi o loro parti. Per dare degli esempi. Significa tanto nell'area salute, farmaceutica, diagnostica, significa alimentazione, quindi alimentazione funzionale, cioè valori nuovi ai cibi che mangiamo. Significa risanamento ambientale, significa bioprodotti, per esempio bioplastiche, biocarburanti. Significa tante cose, siamo in una sala meravigliosa, significa anche restauro. In questa edizione verranno affrontate insieme ai temi che ho ricordato anche dei temi che sono effettivamente sulla frontiera dell'innovazione. Per esempio tutto ciò che è possibile ottenere di positivo dal mare, non solamente tanto turismo, ma la possibilità di avere fonti energetiche che derivino direttamente dal mare. Questo è un tema sul quale si è davvero sulla frontiera dell'innovazione, sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. Il riscoprire la propria vocazione di penisola, Genova in particolare può giocare un ruolo importante riscoprendo la tradizione marinara. Secondo Vingiani potrebbe essere questo uno dei settori da cui ripartire per uscire dalla crisi. La bioeconomia è qualcosa che può dall'interno rigenerare gran parte della competitività del nostro paese in settori e segmenti economici, quindi industriali ma anche agricoli, che hanno visto negli ultimi anni il nostro paese perdere terreno. Noi stiamo conoscendo da oltre cinque anni una crisi acuta che per la verità viene da lontano, da altri 15 anni precedenti di crisi strisciante. Abbiamo esigenza di modificare un modello di sviluppo che ha portato ricchezza e prosperità al nostro paese, soprattutto negli anni 50, 60, a parte degli anni 70. Se è andato esaurendo quella spinta propulsiva dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo ed è la conoscenza che ci può dare questo qualcosa di nuovo. La bioeconomia è un pezzo della società della conoscenza.